Buonanotte Osvaldino. Buonanotte mamma. A domani tesoro mio. No aspetta mamma, non spegnere la luce ti prego. E perché mai? Io ho paura del buio. Hai già quattro anni, non dovresti avere paura del buio. Nel buio ci sono le cose spaventose. Osvaldo caro, mica avrai paura del mostro che c'è sotto il letto, quello con gli artigli infimi che rapisce i bambini. Anche. O per caso ti spaventa quell'entità oscura che c'è nell'armadio? Quella che uccide i pargoli strappandogli la testa? Oh mio dio. O forse ti terrorizza il fatto che lasciandoti dormire con la finestra aperta un pazzo criminale possa entrarti in camera, rapirti e sacrificare le tue carni a satana? Smettila mamma. Osvaldino, sono ben altre le cose di cui bisogna aver paura nella vita. Tipo? Tipo i debiti, gli inviti ai matrimoni a luglio, un nuovo album di Gigi D'Alessio, oppure i teletubbies. I teletubbies? Buonanotte osvaldino mio. No mamma, aspetta. Buonanotte. Inchi inchi. Chi c'è? Eh sì. Chi siete? Siamo i teletubbies. Che cosa volete da me? Giocare. Volete giocare? Noi amiamo giocare. Non è vero po'? Sì, noi amiamo uccidere. Volevo dire rapire l'anima. Volevo dire giocare. Gioca con noi, a cosa? Al gioco del saluto. Come funziona? Noi ti diremo ciao e tu dovrai risponderci ciao. Se non lo farai morirai. Credo di potercela fare. Il saluto. Dovrai farlo in una lingua a tua scelta. Che inizi per N. Ma cosa? Puoi scegliere il nepalese, il nipponico, il nigeriano, il norvegese. Ma io sono piccolo, non conosco queste lingue. Iniziamo. Ciao Osvaldo. Ciao Fra. Cosa? E' napoletano con la N ho vinto. Allora mi lascerete vivo? Ma certo che ti uccideremo. E volevo dire ti lasceremo vivere. Ma solo se vinci il prossimo gioco. Che gioco? Il gioco del sole. Oh, sembra allegro. Dovrai guardare per un minuto intero nella direzione del sole. Ah, sì. Così ti bruci la retina e diventi cieco. E volevo dire così ti abbronzi. Va bene. Dove stai guardando? Scusa. In direzione del sole. Ma il sole è in cielo? Sì, ma adesso è notte. Il sole è tramontato quattro ore fa. Seconda della rotazione si dovrebbe trovare in quella direzione. E come mi avete detto voi, devo guardare in direzione del sole. Dovrebbe essere lì. Ah, eh, c'ha ragione capo. Maledetto ragazzino non terrapiattista. E devo ancora guardare? No, va bene, hai vinto. Ora devi soltanto riuscire nel terzo gioco. Oh, ancora? Che gioco? Devi resistere dal cantare la nostra sigla. No, questa no. Se la canti muori. No, vi prego. E così è sleale. Devi fare il contrario di evitare di non cantarla. Non ce la farò mai. Ti diamo noi l'attacco. Inkyo inky. I zii. Dai, cantala. No, no. Dai, dai. Come mi chiamo io? Oh, tenetabish. Tenetabish. Fanno... Ciao. La tua anima è nostra. Oh, nostra di chi? Di noi teletabish. Teletabish. Cioè di chi? Di Tenguiki. Di Psi. Basta. Ma la. Fermatelo. Non riesco a fermarmi. Tenguiki. Tenguiki. E' troppo anche per noi. Oh, no. Presto stai passendo. Portiamolo all'inferno. Tenguiki. Iscrivetevi al canale. Condividete questo video. Grazie a tutti gli abbonati. E soprattutto il livello 2. Parlo di Antonio Rega. Bella Virux. Daniele Cuomo. Roberto Vigalvi. Francesco Di Masquale. Stefano Bologna. Matteo Tandini. Dimitri Manzambi. Blink Thunder. Cristino Morello e Vicenzo Negli Abbronzi.